Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è un video all DM. Sono acquisti che non ho fatto tutti in una volta sola, ma nel tempo. Io ho il DM praticamente di fronte casa, quindi ogni volta che mi serve qualcosa, la carta igienica, sono fuori, ho sete, voglio una bottiglietta d'acqua, passo di lì e poi inevitabilmente qualcosa rimane attaccato alle mani e quindi niente, vi mostro che cosa ho comprato. Allora, intanto parto con due cose che io acquisto sempre al DM e sono questi Kleenex del marchio Ebelin, un marchio interno appunto al DM in carta riciclata, sia il cartoncino sia appunto i fazzoletti. Sono intanto molto carine le confezioni e poi molto validi i Kleenex, non graffiano il naso però sono abbastanza spessi. Questo 99 centesimi, questo forse 1,20 euro mi sembra. E sono, non lo trovo mai, 200 credo, fazzoletti. Mentre questi qua invece mi sembra di ricordare che sono 60, sì, 60 e 200. Quindi ottimo prezzo, ottimi prodotti, ve li straconsiglio. Tra l'altro, per farvi vedere che non mento, a parte che ve li mostro nel video degli acquisti naturali del mese però ecco qua un'altra confezione che ho in uso e niente, mi piacciono molto. Altra cosa utile ma poco interessante sono questi, sono gli Scottex del marchio appunto interno al DM sono tre rotoli, non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque mi piacciono perché sono colorati quindi sono carini e poi costano poco e durano tanto e la carta è bella doppia quindi mi piacciono. Poi ho preso degli integratori che sono questi qua, Mivolis, è il marchio con l'interno al DM che fa praticamente integratori, ho preso l'omega 3 perché io non mangio pesce quindi in qualche modo devo appunto prendere un po' di omega 3 quindi ogni tot, tipo una volta l'anno, prendo gli integratori. Tra l'altro però vi volevo dire una cosa, questi integratori qua che io sto prendendo sono dei bei pillolozzi grossi quindi se non sapete molto bene ingoiare le pasticche che non ve li consiglio. Sempre del solito marchio ho preso questo qua che è uno spray per le orecchie per togliere il cerume, ecco fondamentalmente è questo. Ho fatto del solito marchio i coni per il cerume ieri sera che funzionano un sacco devo dire e niente ho preso questo, vediamo un po' come mi trovo perché so che i coni non è che li facciano proprio benissimo all'orecchio. Poi ho preso Stop Doll, i cerotti, questi qua, io acquisto sempre questi, solo loro non si trovano solo al DM questi ma non mi ricordo dove si prendono, forse al penny sono cerotti con arnica e artiglio del diavolo per dolori articolari, muscolari e mestruali non scaldano quindi vanno benissimo anche d'estate il cerotto rimane ben aderente per tutto il giorno ma anche di più e fanno. Io li utilizzo per i dolori alla spalla e al collo, ne soffro un sacco questi mi fanno, non mi fanno per 24 ore quando proprio ho quei dolori pesissimi 24 ore no, però quando ho proprio il dolore acuto molto molto forte per qualche ora almeno sono a posto, senza dolore. Allora, ho preso dei prodotti di Balea che erano in edizione limitata allora, il gel doccia Copacabana, profumazione strepitosa, buonissima mi sembra 99 centesimi questo gel doccia, quindi neanche tanto della solita limited edition ho preso anche la maschera per il viso in tessuto c'era poi anche la crema a mani, in taglia normale e in mini taglia mi sembra questa è una maschera viso idratante poi ho preso in edizione limitata questo qua che è un lip balm alla profumazione tè alla pesca che ho acquistato 99 centesimi sia a me che a mia sorella ho sentito la profumazione di quello di mia sorella perché l'ha già aperto ed è buonissima poi ho preso sempre di Balea questa qua che è un'altra maschera in tessuto limited edition, questo qua con estratto di anguria e la proveremo, ne avevo preso una anche a mia sorella che però ha mangiato il gatto vabbè, poi ho preso di DAV questo deodorante con verbena e pesca mi piacciono molto i deodoranti di questa linea qua di DAV per quanto riguarda DAV ho preso anche la mousse per il corpo idratante non è una mousse doccia, è proprio una crema, non in mousse scusate, in spray ma crema spray non riuscivo a trovarla, questa l'ho presa al tigotà in un tigotà grande della mia città perché negli altri non l'ho trovato e niente, questo qua è con avocado e credo calendula sì, avocado e calendula l'ho acquistato ieri quindi non l'ho neanche annusato ma vi saprò dire tra un po' poi di al verde ho preso lo scrub, questo qua al caffè sono 120 grammi, costa sulle 3 euro e qualcosa quindi non è poco l'avevo visto in un video vecchissimo ormai di Giulio, del canale Giulio e l'elefante mi avevano curiosito e ho voluto prenderlo poi sempre di al verde ho preso due set perché costavano mi sembra 4 euro, non potevo lasciarlo lì allora, un set, la scatolina, vi ho fatto vedere la foto su Instagram comunque vi metterò una foto anche qua perché la scatolina l'ho regalata a mia sorella perché esteticamente era molto carina comunque è questa, è la limited edition, è questa, Tropical Dreams il set è composto da due pezzi al profumo di melone bio e bacche di acai e glicerina vegetale abbiamo il fluido mani e il gel doccia che ha una profumazione, soprattutto la crema mani buonissimo, i pack sono così, sono veramente molto 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 carini e niente, ho voluto prenderli attirata dal pack l'altro set molto interessante è questo qua anche questo 4,90 mi sembra ed è in edizione limitata estiva questo e qui abbiamo invece vediamo se lo trovo in italiano profumo di sali marini ed estratto di fiori di loto bio e abbiamo il gel doccia, il fluido corpo e lo spray rinfrescante vi faccio vedere la scatolina è stupenda e poi la terrò allora lo spray per il corpo che ho utilizzato ieri ha una buonissima profumazione fresca, un po' estiva però leggermente appiccicoso e poi abbiamo il gel doccia e la crema per il corpo e anche il gel doccia, la crema per il corpo non l'ho aperta perché vorrei prima finire un'altra cosa che sto utilizzando il gel doccia ha una profumazione buonissima veramente molto buona e le confezioni sono molto carine poi ho acquistato anche questo boccettone enorme di gel doccia Love Beauty and Planet 92% di ingredienti di origine naturale questo qua è un doccia schiuma al cocco e mimosa la profumazione è dolcissima io l'ho acquistato perché ho visto mimosa non ho più capito niente ma non sa di mimosa in realtà è un prodotto vegano, senza coloranti e bla 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 costava sulle 4 e qualcosa volevo in realtà lo shampoo ma ho visto che costava più di 7 euro e no, alla fine ho preso questo poi ho preso due prodotti di Balea per quanto riguarda i capelli e l'estate anche se quest'anno in realtà al mare non sono ancora andata quindi mi sa che ormai li tengo per il prossimo per la prossima estate e ho preso lo spray protezione solare per capelli al profumo dovrebbe essere di Monoi comunque sì, olio di Monoi, cheratina e poi ho preso quest'altro che invece è una crema dopo sole per capelli con cheratina e olio di Monoi questi due prodotti qua ne ho sentito parlare bene e li ho presi poi ho preso 4 oli essenziali perché ne ho sentito parlare bene da Titiana e sono l'olio essenziale Mibolis di T3 che ho già aperto e sto utilizzando il T3 si usa per mille cose è un antibatterico, antiodore, bla 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 buonissimo sono oli puri poi tra l'altro poi ho preso per le zanzare effettivamente stanno funzionando l'olio essenziale di Eucalipto e di Citronella eccoli qua del marchio Profissimo e poi ho preso anche l'olio essenziale di Lavanda che però ancora non ho aperto per quanto riguarda invece Essence ho acquistato dei prodotti tempo fa vi ho fatto vedere un pennello dorato e pensavo che fosse la linea in dizione limitata quella al miele in realtà non era quella quella al miele che io vedo ormai da un sacco di tempo sarà un mese è uscita pochissimi giorni fa c'è stata pochissimo e poi ora c'è un'altra linea ancora in edizione limitata che però vabbè non mi interessa non ho acquistato niente ho preso di questa edizione limitata appunto al miele i due pennelli che ho trovato che sono questi qua con il manico con tutti i disegnini con la petta e le aggeggini dell'alveare non mi viene il nome comunque non li ho ancora provati li devo lavare le setole sembrano morbide come tutti i pennelli di Essence ma rispetto agli altri pennelli di Essence il manico è molto molto cheap a sentire sembra un po' una plastichina molto scadente non ho potuto sentirli dal vivo lì in negozio perché erano all'interno di queste scatoline se no devo dire la verità non so se l'avrei preso perché veramente un po' cheap sembra al tatto ma vi farò sapere e poi sempre di questa linea ho preso c'era anche la palette occhi ma non mi interessava ho preso e la linea si chiama wannabe my honey la polvere la cipria matificante con il pack in cartoncino con l'elastichino per tenerla chiusa e la cipria è questa con appunto la cialdina anche qua c'è la scritta be my honey con quei cosettini dell'alveare ed infine ho preso queste che lo vedete vuoto perché adesso sono asciugari le ho lavate in lavatrice e le ho messe a asciugare praticamente questi qua sono tre cuscinetti struccanti questi qua sono di poliestere e poliammide sono lavabili in lavatrice a 40 gradi e sono appunto tre pezzi eco friendly fast e easy e niente vabbè sono dei dischettini struccanti riutilizzabili che ho voluto prendere mi piacevano e niente li proverò e vi farò sapere ancora non li ho provati perché appunto li ho presi li ho tolti dalla scatola e li ho messi a lavare bene quindi questi erano gli acquisti che ho fatto in questo periodo di tempo al DM devo dire la verità quando sono andata a vedere i set che c'erano ce n'era anche un altro di Balea che mi piaceva un sacco ma che ho lasciato lì ma ci sto pensando non so se alla fine lo prenderò o no l'ho lasciato lì semplicemente perché nel set c'era anche la crema una crema per il corpo ma io avendo acquistato già questa qua e quella spray di DAV non vorrei prenderne altre perché ne ho tante e le creme corpo le smaltisco con un po' più di fatica soprattutto adesso in estate però non lo so se al limite lo prendo vi metterò una foto su Instagram il link del mio profilo Instagram lo trovate qua giù nell'info box comunque queste erano i miei acquisti fatemi sapere se avete provato qualcosa se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao